Piazza del Popolo, proteste strumentalizzate da frange dell'estremismo politico ultra e criminalità. Al TG1 parla il ministro dell'interno Lamorgese che lancia un appello a chi manifesta isolate, dice, i violenti. L'intervista è di Isabella Romano. Ministro, lei ha visto le immagini delle piazze ieri sera a Torino e a Milano. Cosa sta succedendo? Io penso che debba essere sempre garantito il diritto di manifestare perché siamo in uno Stato democratico. Però in questo momento ci sono delle frange estremiste che stanno inserendosi e strumentalizzando questo periodo di grave pandemia. E quindi io vorrei cogliere l'occasione per lanciare anche un messaggio ai cittadini che vogliono manifestare contro le misure che in questo momento il governo sta prendendo, ma che sta prendendo soltanto per la tutela della salute pubblica, di prendere le distanze da coloro che stanno distruggendo e devastando le nostre città. C'è un'unica regia dietro alle violenze, ai saccheggi, alla guerriglia? Oggi come oggi noi rileviamo che ci sono delle frange di estrema destra, di estrema sinistra, abbiamo frange al transiste degli ultras. Anche la criminalità organizzata può eventualmente strumentalizzare situazioni difficili in questo momento. Quindi parlare oggi di strategia unica è difficile, ma certamente dobbiamo stare molto attenti. C'è il rischio di un'escalation di violenze, di tensioni sociali? Qua è il compito nostro del governo, cercare di dare il prima possibile gli indennizi necessari a coloro che avranno delle perdite. Il tempo, il fattore tempo è fondamentale e noi non possiamo correre rischi.